In questi giorni Fila festeggia 111 anni, un traguardo importante e simbolico che il brand vuole celebrare ponendo l'attenzione al concetto di sostenibilità in una metaforica staffetta di benessere delle persone del mondo, con i giovani del futuro. La fondazione Fila Museum ha deciso pertanto di lanciare un contest creativo, finalizzato alla raccolta di progetti che sviluppino il concetto di sostenibilità nei suoi diversi risvolti nell'ambito dello sport o della moda senza limiti alla forma che gli stessi potranno assumere rispettando anche nella forma prescelta la sostenibilità. Al contest possono partecipare tutti senza limiti di età. Spiega Annalisa Zanni, responsabile di fondazione Fila Museum. In questi anni abbiamo lanciato molti contest, in particolare rivolti ai giovani, che ci hanno sorpreso per sensibilità e creatività, quindi abbiamo voluto scegliere un tema molto attuale come quello della sostenibilità intesa come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Un tema non facile, ma sappiamo che il pubblico che segue Fila non ci deluderà. Gli elaborati sono realizzati attraverso diverse tecniche, tipologie e supporti. Sono stati accettati sia i contenuti digitali che fisici. Pittura, disegno, grafiche, incisioni, illustrazioni, caricature, arte digitale, ma anche scultura e fotografia, oppure progetti come fumetti, arte tessile, ricamo, confezione, oppure videoclip con animazioni 3D o 4D. Ai soggetti vincitori sarà corrisposto un contributo economico. Grazie a tutti.